Ben trovati a voi tutti! Eccoci al nostro appuntamento con la rubrica Insieme oltre 2000. Quest'oggi parliamo di spiritualità, di cultura, di turismo religioso e in particolare parliamo del nostro Papa Luciani Don Albino. Saluto e ringrazio fin da subito l'ospite che è venuto a trovarci, Loris Serafini, che è il direttore del Museo Albino Luciani di Canale d'Agordo. Ben trovato! Grazie! Grazie direttore per essere qui con noi, per raccontarci quest'estate. Un'estate ricca di appuntamenti nel ricordo, ovviamente nella venerazione, nella preghiera al nostro almato Papa Albino Luciani. Sì, è un'estate che è la prima dopo la beatificazione che è avvenuta lo scorso 4 settembre 2022 e quindi ha avuto anche un riflesso sul fatto che molti pellegrini, molti visitatori hanno deciso in questa primavera, in questa estate di raggiungere i luoghi natali del nuovo beato. Ecco, abbiamo voluto quest'anno dare una connotazione particolare agli eventi, ricordando una figura che è quella di uno scrittore trevigiano, Enzo De Mattè, che ha studiato a fondo l'ambiente culturale, la religiosità di questa valle, che è culminato questo studio in un bellissimo romanzo dal titolo della valle con i santi alle finestre. Ed è quello che, in effetti, Luciani ha respirato fin dalla sua infanzia. Questi santi alle finestre, la religiosità della mamma, il catechismo da lei raccontato. Ecco, quindi meritava anche un ricordo, questa personalità di alto livello e abbiamo voluto un po' incentrare gli eventi ricordando lui. Naturalmente nel contorno di quelli che sono i luoghi, ecco. Di Albino Luciani. Allora, prima di addentrarci nel ricco panorama di iniziative, di attività, direttore naturalmente con la sua grande esperienza, conoscenza di Don Albino, ci fa ancora un po' la figura del nostro amato Don Albino. Certo, ecco, io direi che, anche se c'è stato Gregorio XVI, è il primo Papa che ha vissuto interamente nel Dolomiti, cioè si è formato, è cresciuto, quindi ha vissuto una santità ordinaria, ecco, quella delle donne che si sacrificavano proprio come madri, come spose, vedendo partire i propri mariti con fatiche enormi. Lui ha respirato e vissuto in questa santità ordinaria molto amata dal vescovo Vincenzo Savia che aveva fatto partire il processo di canonizzazione. Ecco, Luciani è amato oggi proprio perché è un uomo del popolo, pur essendo stato pastore di grandissima intelligenza, di grande cultura, è diventato Papa, non a caso certamente, nello stesso tempo ha saputo mantenere un dialogo fortissimo con ciascuno delle persone che incontrava. Lui era proprio un figlio della montagna, si sentiva figlio della montagna. E' uomo ad un pezzo, non c'era ipocrisia in lui, aveva una, viene in mente quel brano del Vangelo, no? Che in cui si dice, il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Ecco, io direi che Luciani era un uomo di questo taglio, proprio forgiato nelle nostre Dolomiti. E quindi quello che colpisce ancora oggi, a distanza di tanti anni, sono piccoli ricordi dei pellegrini, piccoli gesti di affetto e piccole attenzioni che formano quella che è la santità ordinaria, tanto cara anche a Papa Francesco. Certo, sicuramente la casa natale di Papa Luciani è l'elemento che un po' caratterizza tutto questo suo mondo. Abbiamo anche delle immagini, grazie all'aiuto di Simone che ci segue in regia, che rappresenta proprio la casa natale che è aperta al pubblico. Assolutamente sì, è il primo luogo direi, perché è il luogo dove è nato, e quindi dove nasciamo il mondo è il luogo più importante, no? E quindi la casa è il luogo degli affetti, dove è stato educato dalla madre cristianamente e dal padre nei valori del rispetto verso i lavoratori, no? Ecco, la casa natale che è stata recuperata, è stata restaurata, adibita ai visitatori, grazie alla generosità del Cardinale Stella, grazie poi ai contributi, all'aiuto della diocese di Vittorio Veneto, ma anche di altri donatori. è il luogo degli affetti, mentre spostandoci in un percorso che abbiamo ideato verso il museo, che è il luogo della conoscenza, della conoscenza della figura, dell'insegnamento di Papa Luciani, si approfondisce quella che è la personalità di lui, no? La casa, rimasta com'era, ti permette di avere un rapporto emozionale, quasi, no? Con Luciani. Di identificarti in quel bambino. Il museo è il luogo invece dove si conosce, ecco. Passando tra questi due luoghi, in mezzo c'è anche la chiesa, che è il luogo dove lui è spiritualmente cresciuto, dove si è formato cristianamente, ha ricevuto i sacramenti, compreso anche, sì, prima comunione, cresima, eccetera, ma è diventato anche cooperatore, quindi viceparroco. E ancora adesso, appunto, tanti sono i pellegrini che vanno a pregare, no? A lasciare, ad accendere una candela a Luciani. La parrocchia è il luogo del culto, quindi la chiesa della Pieve di San Giovanni Battista è proprio il luogo del culto del Beato Luciani. Davanti alla statua di Riccardo Cenedese, molti accendono un lumino e recitano una preghiera di intercessione, ecco. Io sottolineo sempre, ecco, che c'è l'importanza dell'intercessione, e quindi i miracoli li fa Dio, ecco, ma la fiducia che tanti hanno verso Papa Luciani è veramente particolare, è grande. Senta, direttore, adesso parliamo, qui ho tra le mani il pieghevole della rassegna estiva, quindi, che è arrivato ormai alla 45esima edizione, appunto, 45esimo appuntamento, eventi culturali nei luoghi del Beato Papa Giovanni Paolo I. Abbiamo il manifesto, il pieghevole, così possiamo scorrerli velocemente e anche colpisce l'occhio il ricco programma che è stato realizzato, che è in corso in questi mesi. Sì, ci sono vari modi per ricordare la figura di Papa Luciani. Nei mesi estivi, è chiaro, c'è una forte presenza turistica nelle nostre Dolomiti e sono i mesi migliori per offrire un ricordo ai visitatori e anche ai pellegrini. Direi che ci sono due o tre gruppi di eventi, ci sono dei concerti che non mancano mai, abbiamo valorizzato le due chiese, a cui Luciani era più legato, la chiesa di San Giovanni Battista, Canale d'Agordo, e la chiesa monumentale di San Simon di Vallada Gordina, dove c'è appunto anche una nuova scuola dei battuti appena restaurata, bellissima, del 1300, ecco, dove verranno eseguiti dei concerti sia di organo, sia di quartetti d'archi, ecco, li vedremo nel ricco calendario che si può trovare anche sul nostro sito www.musal.it e si dipannano tra il mese di luglio e di agosto. Ci sono poi conferenze, incontri con l'autore che riguardano Albino Luciani, abbiamo, cominciamo con il, diciamo, il 22 di luglio, la presentazione della tesi dell'onorevole Massimo Candura sulla diplomazia del sorriso e la politica estera di Papa Luciani, con il professor Schiavazzi e l'autore, che parlerà appunto di un aspetto poco conosciuto di Luciani, la diplomazia, ecco, anche se il papato è stato breve, ha avuto un paio di momenti di altissimo livello diplomatico, ecco, lo potremo scoprire in questo... Quindi delle particolari sfaccettature anche, per evidenziare e analizzare la figura di Luciani. Poi sono tanti gli appuntamenti, insomma, abbiamo visto il calendario e poi naturalmente anche le mostre comunque. Sì, quella, diciamo, principale che abbiamo allestito con la fondazione Benetton di Treviso e i figli di Enzo De Matteo, uno scrittore trevigiano, riguarda proprio la valle con i Santi alle finestre. Il titolo è precisamente Finestre in Valbiois. Ricorda questo scrittore e i carnet che lui ha prodotto per scrivere il suo romanzo, diciamo, principale, poi ne ha scritti altri, la valle con i Santi alle finestre, nel 1958, l'anno della consacrazione episcopale di Albino Luciani, l'anno dei 500 anni della pieve, il cinquecentenario della pieve di Canale d'Agordo, quindi anche un anno significativo. Con una coincidenza, appunto. Ci sono delle coincidenze, sì. Ecco, cosa lega la figura di De Matteo ad Albino Luciani? Certamente il fatto che questo scrittore ha capito nel profondo quali erano i sentimenti della gente di montagna, la vita vera, non quella utopistica, no, che ci immaginiamo, della vita in montagna, i sacrifici che anche lui da piccolo ha fatto. Non mi risulta che i due abbiano avuto un rapporto personale, ma quello che è interessante è proprio la comprensione di questo ambiente. Quindi meritava una valorizzazione speciale perché è uno scrittore che viene anche valutato molto in Veneto, ma non solo, e ci saranno apposite serate con l'autore. Avremo con noi Antonio Bortoluzzi, avremo con noi Matteo Melchiorre che parleranno appunto di questi aspetti in relazione anche a questo romanzo. Certo, fra i luoghi importanti che ruotano attorno al mondo di Luciani o comunque di Canale d'Agordo, di questa realtà, io ho tra le mani uno dei tanti opuscoli, ma poi nel sito naturalmente si trovano tutte le varie informazioni. Una menzione, Serafini, la possiamo fare anche alla Casa delle Regole. Sì, ed è il luogo appunto dove è allestita questa mostra. Ma è una struttura particolare, affascinante. Assolutamente sì. È una casa del 1640, fondata dalla famiglia Doglioni di Belluno, nobile, che in quell'epoca aveva un proprio membro pievano della Pieve di Canale, quindi aveva anche un parente, notaio, avevano acquistato dei fondi e costruito questa casa davvero straordinaria per le pitture, gli affreschi che conservano, ma soprattutto perché è rimasta tale e quale all'epoca in cui fu costruita, quindi con il Larinna tradizionale, il Fornell dell'epoca, gli stessi muri, le stesse scritte all'interno, gli stessi intonaci. E quindi sembra proprio di fare un tuffo nel passato. Esattamente, di 400 anni. E quindi è davvero affascinante anche per i turisti, ma poi soprattutto per i residenti, per godere della bellezza del territorio circostante. Senta, Serafini, lasciamo un attimo da parte adesso il suo ruolo di direttore del Museo Albino Luciani, ma sappiamo che lei fa parte anche della Fondazione Vaticana dedicata proprio ad Albino Luciani. Quali sono le attività che ha in corso la Fondazione in questo momento? In questo momento, dopo la valorizzazione dell'archivio personale di Albino Luciani, che è stato inventariato, digitalizzato, sistemato, portato da Venezia a Roma e quindi inserito anche, diciamo, nella struttura vaticana, è la volta della biblioteca, cioè della raccolta dei libri di Albino Luciani e quindi quelli che hanno formato, quelli che hanno creato la sua formazione. La sua biblioteca personale, che è stata trovata a Venezia, nella biblioteca patriarcale, dove è in corso un progetto di individuazione dei libri appartenuti ad Albino Luciani per una ricollocazione, il processo è già a buon punto, questo da un lato, dall'altra, a Canale d'Agordo, abbiamo fatto la stessa cosa, rivenendo i suoi libri personali nella Casa Natale. Quindi sono stati trovati nella Casa Natale? Diciamo, i libri, la maggior parte no, sono a Venezia, perché poi lui se li ha portati dietro man mano e da Venezia a Roma non hanno fatto il tempo, o meglio, ne sono partiti parecchi, ma non tutti, poi alcuni sono tornati. Ecco, diciamo che i libri grossomodo sono rimasti a Venezia, in gran parte, non sono partiti neppure per Roma, per cui si sta ricostruendoli. Mentre nel Paese Natale ne erano rimasti nella Casa Natale, quindi quelli della sua infanzia, che sono lì, sono stati individuati, catalogati, adesso messi anche in rete, nella rete propinge. Quindi un lavoro davvero importante. E anche in canonica, tutti quelli della canonica, che lui ha letto, studiato, commentato e catalogato in canonica. Quindi un lavoro che è ancora in corso d'opera e che riserverà poi delle sorprese, quindi credo che con la Fondazione Vaticana questo sia al momento uno dei progetti più belli. Ecco, uno dei tanti filoni, diciamo comunque di ricerca, perché ricordiamo l'opera di valorizzazione, conservazione e divulgazione appunto dell'attività del Beato Don Albino. Noi ringraziamo tanto Loris Serafini, direttore della Musa, al Museo Albino Luciani, per essere stato qui con noi negli studi di Telebelluno. Buon lavoro Serafini a lei e a tutto il suo staff per le tante attività e naturalmente l'invito, ovvero a tutti gli ascoltatori, di venire a Canale d'Agordo. Troverete appunto tutto un pacchetto di possibilità di vedere questi luoghi. Grazie ancora e a tutti quanti voi che ci avete seguito, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci! Grazie a tutti! Grazie a tutti!